Questa paziente ha avuto un episodio di mielopatia su base virale, quindi questo ha comportato un'interruzione dell'impulso che viene dal cervello, dal sistema nervoso centrale. A livello del midollo non si trova il contatto elettrico, quindi i muscoli periferici sono rimasti privi dell'impulso elettrico, è una condizione questa di paralisi, la signora ha fatto fisioterapia, questa è una situazione che va avanti da più di dieci anni, fisioterapia, fisioterapia, ma oltre questo non si riesce, non si riuscirà a fare. L'unica soluzione sarà fare un intervento chirurgico mirato a migliorare la postura, il movimento del piede ed evitare il piede equino paralitico cadente.